Buongiorno a tutti, cari concittadini e concittadine, purtroppo questa mattina non abbiamo potuto fare la tradizionale cerimonia del 4 novembre, ho voluto però ugualmente fare alcune riflessioni, non sarà un discorso ufficiale, saranno solo alcune brevi riflessioni che intendo condividere con tutti voi e parto nel fare queste riflessioni da due fatti che mi sono capitati domenica primo novembre. Il primo fatto è questo, entrando al cimitero, come tanti di voi, sono stato colpito, sono stato un attimino in riflessione davanti al monumento agli alpini, alla ritirata di Russia, opera del nostro concittadino Gioacchino Chiesa. Il secondo è il pomeriggio, ho partecipato sia a titolo personale, per amicizia, ma anche a rappresentare la città alla consacrazione, ai voti perenni, di una nuova suora di causura suoragnese nel convento, nel monastero della città di Brà. Bene, capirete dopo da queste brevi riflessioni perché sono partito da questi due fatti che mi sono capitati domenica. Pensate che fino agli anni 70, se non vado errato, il giorno di oggi era una giornata festiva, non si lavorava, non si andava a scuola. Adesso chiedendo a diversi giovani che cos'è il 4 novembre, alcuni faticano a dirne il motivo. Bene, credo che sia importante richiamare le tre aspetti che celebriamo oggi. La prima, la fine della Prima Guerra Mondiale, l'armistizio di Villa Giusti, 4 novembre 1918. Non dimentichiamo però le tante vittime giovani di tutte le nazioni che hanno perso la vita durante questo conflitto. Per l'Italia 689 mila morti e 1 milione e 50 mila feriti. Secondo, oggi ricordiamo e celebriamo l'unità d'Italia, ma importante, non pensata solo come entità statale, ma come unità di una comunità di cittadini. È molto importante questo aspetto. E terzo, festa delle forze armate. Forze armate che sono una preziosa risorsa fatta di persone, uomini e donne per la nostra sicurezza, ma forze armate presenti anche in tanti luoghi del mondo per portare la pace e per dare una mano a popolazioni in difficoltà. Ho pensato che insieme al 4 novembre, noi in Italia ricordiamo diverse altre date. Mi viene in mente il 25 aprile, il 2 giugno, il 1 maggio, il 27 gennaio. È importante ricordarla perché è un po' come la nostra carta d'identità. Se entra a essere mancherebbe un pezzo della nostra storia. Però c'è un fil rouge che lega queste date. Spesso ricordano momenti importanti, momenti positivi per la nostra nazione, ma hanno dietro di loro sofferenza, dolore, sacrificio. E allora ritorno da dove sono partito, dai due avvenimenti di domenica. Vado al monumento. Non so se ci avete fatto caso. E' vero che il monumento parla della seconda guerra mondiale. Però nel monumento Gioacchino Chiesa ci ha fatto un alpino che si volta verso ognuno di noi. Che ci interroga. L'altro, suo Ragnese, nel salutarmi, ha detto una cosa importante. Spesso pensiamo che il monastero ci impedisca da vedere la realtà cittadina, la realtà che ci circonda. Invece lei dice, occorre guardare lontano, mentre oggi si tenda a vedere solo vicino. Questo però non garantisce il futuro. C'è la sfida di guardare lontano. Bene, credo che oggi possiamo prenderci tre impegni, pur in mezzo a rafforzati, ancora dal periodo che stiamo vivendo. Il primo è l'impegno prioritario per la pace. Pace inteso fra le nazioni, ma anche comportamenti di pace nella nostra città. Il secondo è per non solo celebrare l'unità, ma difendere l'unità, rifiutando sterili contrapposizioni che portano all'odio e alla divisione. E il terzo è per essere una comunità che si sostiene a vicenda nei momenti difficili, alimentando speranza, fiducia nel domani, con uno sforzo comune. E permettetemi, in chiusura ritorno ancora una volta al monumento degli Alpini. Mi è capitato di partecipare a diverse manifestazioni organizzate dagli Alpini. E mi ha sempre colpito a volte il loro urlo, quando vengono ricordati dei nomi e urlano tutti insieme presente. Ecco, io presente lo porterei come significato io ci sono. Ecco, di fronte a questi tre impegni, io cittadino di Bra ci sono. Viva l'Italia!